L'utilizzo di modelli animali per lo studio di malattie come l'obesità e il diabete di tipo 2 e in generale la sindrome metabolica hanno permesso di comprendere tutti i meccanismi alla base di queste patologie in gran parte dei casi, proprio perché esistono dei modelli di malattia appunto nell'ambito dei modelli animali di obesità che sono frutto di mutazioni spontanee avvenute in ceppi di topi che erano appunto suscettibili a questo tipo di patologie. Nello specifico quello di cui ci siamo occupati e di cui ci si occupa in moltissimi laboratori nel mondo è proprio lo studio di ceppi di topi cosiddetti obesi spontanei. Di questi esistono due grandissime categorie che sono quella dei topi OB-OB che sono deficitari di un ormone prodotto dal tessuto adiposo che si chiama leptina che è un ormone che segnala al centro, al cervello, che sufficiente quantità di cibo è presente nell'ambiente. Se sufficiente quantità di cibo è presente nell'ambiente, al momento in cui il soggetto, sia esso animale da laboratorio, sia esso essere umano, mangia sufficiente quantità di cibo, questa quantità di cibo viene immagazzinata sotto forma di tessuto adiposo e di grasso, questo grasso produce questo ormone che si chiama leptina che segnala al cervello che c'è sufficiente quantità di cibo e quindi possiamo ridurre l'assunzione di cibo. Se questo ormone manca, non c'è questo segnale da parte del tessuto adiposo e l'individuo, sia esso animale da laboratorio, sia esso soggetto umano, non ha più questo segnale di inibizione e continua a mangiare costantemente fino a quando? Praticamente fino all'infinito in un certo senso, proprio perché questi soggetti non hanno più questi segnali inibitori. Ora, immaginerete che lo studio di modelli murini, nello specifico quindi di topo, deficitari naturalmente di questo ormone, ha permesso di comprendere anche le basi genetiche di malattie come l'obesità e il diabete di tipo 2. Difatti, circa molti anni fa, quasi 20 anni fa, nel 1994, è stato proprio clonato questo gene che si chiama leptina prodotto al tessuto adiposo e il clonaggio di questo gene è stato permesso proprio grazie allo studio di questi modelli di obesità che erano noti fin da oltre 30 anni. Pertanto sono stati assolutamente indispensabili questi modelli murini di obesità spontanea per comprendere le basi genetiche di come queste patologie fossero anche presenti nell'uomo. Infatti, proprio grazie allo studio di questi modelli, si è riuscito a caratterizzare anche le basi genetiche delle patologie come l'obesità nell'uomo stesso. Difatti, nonostante l'obesità ormai sia un problema enorme, quasi un'epidemia, gran parte delle basi genetiche di queste patologie nasce proprio dallo studio di questi modelli murini. Nello specifico, il nostro laboratorio si è anche concentrato sugli aspetti che ligano l'obesità, questi modelli murini e l'infiammazione e quindi tutte le patologie infiammatorie croniche che scaturiscono proprio da questa alterazione del controllo dell'assunzione di cibo. Difatti, più cibo viene assunto, più tessuto adiposo si accumula, più è un segnale verso l'infiammazione cronica che può poi scaturire e generare malattie quali diabete 2, aterosclerosi, sindrome metabolica, tutte patologie infiammatorie croniche che poi comportano un grossissimo impatto sulla salute pubblica, nei termini in cui ci sono tutte patologie che possono poi essere mal controllate e scaturire tutta una serie di problematiche quali malattie cardiovascolari, diabete e quindi anche l'utilizzo di farmaci e interventi da parte del Sistema Sanitario Nazionale che comportano un'enorme spesa in generale. Detto questo però, un punto fondamentale è che non si sarebbe potuto capire e comprendere le basi patogenetiche di queste malattie nell'uomo senza lo studio di questi modelli murini che sono in un certo senso unici, pertanto è di altissimo interesse e di grandissima rilevanza la possibilità di utilizzare questi modelli nello studio delle patologie umane proprio perché nell'uomo è molto più complesso il tipo di interazioni nel modello animale murino in cui c'è la mutazione di un singolo gene che causa l'obesità è tutto molto più semplice e permette anche di capire se noi possiamo intervenire a livello terapeutico specificamente in questi contesti per eventualmente curare l'obesità, la sindrome metabolica, il diabete 2 e così via. Quindi un punto fondamentale è proprio questo nel contesto dello studio e della comprensione di questi meccanismi di base. Io penso che grazie a queste attività di analisi è ovvio che ci dovrebbe essere il massimo tentativo di ridurre quanto più possibile l'utilizzo della sperimentazione animale in certi contesti ma è anche vero che in patologie quali l'obesità e il diabete 2 è quasi impossibile proprio perché i modelli di questo genere sono unici e è difficilmente riproducibile in modelli esclusivamente in vitro. Quindi l'utilizzo dell'animale da laboratorio e di modelli di mutazione spontanea sono unici, non sono sostituibili fino ad oggi e la rilevanza, proprio perché si rispecchiano molto bene quella che è la situazione nell'uomo, la rilevanza di questi modelli è unica, pertanto il loro utilizzo sarebbe difficilmente sostituibile. Grazie. Grazie.